Una storia letofine che in parte compensa la drammaticità di un evento e l'avversità avvenuta ad Enza Petrilli, giovane e taurianovese scagliata tristemente in una nuova dimensione. La ragazza, a causa di un terribile incidente stradale, che nel 2016 l'ha vista coinvolta insieme al fidanzato, ha perso l'uso delle gambe. Ma da qui in poi, dopo il buio, la lenta rinascita è il successo. Un impatto violento che mandò in frantumi le sue certezze e i suoi sogni, ma la voglia di non spezzare quel filo sottile fatto di un destino beffardo, ma tutto da riscrivere ha consentito ad Enza di aprire un capitolo nuovo della rinnovata opportunità che le si è presentata davanti. Dopo gli interventi chirurgici seguiti da un periodo di riabilitazione, Enza ha trovato una nuova spinta vitale nello sport, scoprendo con il tiro con l'arco la sua vocazione naturale. E dopo ogni tempesta arriva sempre il sereno, perché Enza Petrilli ha colpito il bersaglio delle avversità conquistando la medaglia di bronzo ai campionati italiani di Pararcheri di Palermo, cui si aggiunge la seconda piazza nella categoria assoluti di tiro con l'arco. Un bel risultato per la giovane di Taurianova e una rivincita di cui ancora si aspettano nuovi capitoli e, ne siamo certi, nuovi podi prestigiosi.